Sboccia la primavera in anticipo al Franco Maniscalco di Pomezia per la disfida tra Città di Pomezia e Dallumieri. Colpi di scena a non finire nella prima frazione con il risultato che si sblocca già al quinto minuto. Vigneroli scippa il pallone a Grosselli e approfittando di una deviazione di sgamma serve Faticanti. L'attaccante con un sinistro beffa facilmente Pasquali ed è 1-0 per il Città di Pomezia. Al dodicesimo la squadra di casa ottiene un calcio di punizione per un fallo su Metani. Faticanti tenta direttamente la conclusione ma l'estremo difensore dell'allumiere tuffandosi la propria sinistra salva la propria porta. Il Città di Pomezia non si arrende al ventottesimo lancia in profondità per Caprioli che prova con uno scavetto. Si avventa sulla sfera Faticanti che sempre di sinistro sigla la seconda rete per il Città di Pomezia. La squadra di casa si avvicina pericolosamente al 3-0 al 35esimo con Marinucci che servito dal solito Faticanti in scivolata becca il palo. Nell'intervallo Mr. Brunori sugli spalti causa squalifica sprona i propri ragazzi. Contemporaneamente Capitan Vignaroli incita i propri compagni. Tanta foga nella seconda frazione già nei primi minuti. Al 47esimo su calcio di punizione prova Bianchi ma Crisa Folli non si fa trovare impreparato e recupera tranquillamente la sfera. Cinque minuti più tardi rimessa laterale di Caprioli per Metani che consegna la sfera a Faticanti. L'attaccante con un tiro a giro sigla la sua tripletta personale. Come premio Mr. Sebastiani lo sostituisce con Marrocchella ricevendo però scrosci d'applausi dalla propria tifoseria. 76esimo minuto. Gianfrancesco in profondità serve Marrocchella che in area di rigore subisce fallo da Delfrate. Penalti per la squadra di casa ed ha l'umiere in dieci uomini per l'espulsione del difensore ospite. Dagli 11 metri Marrocchella prova col cucchiaio ma non calibra il tiro finendo sopra la traversa. A cinque minuti dalla fine la squadra di casa si avvicina alla quarta rete con Castiello che becca però il palo. E si chiudono le ostilità e per la compagine di Mr. Sebastiani arriva la quinta vittoria consecutiva. È una partita importante, dobbiamo vincere, abbiamo fatto tre punti fondamentali che ora ci permettono di guardare la classifica con occhi diversi. Possiamo provare a puntare a qualcosa di più. A noi ci interessa soltanto la salvezza per questo campionato perché noi chiediamo solo quello. Cerchiamo di rientrare i giocatori quelli che ci interessano per la classifica. Cerchiamo di rientrare i giocatori che ci interessano per la classifica.